E' lì, devi rientrare qua, e allora, ecco a voi, in anteprima, la mista che è, a voi, la gatta mista, il suo verso, fai impazzire chiunque, ma che la senta, ora aumenterà di volume, aspettate, e allora, ecco a voi, la senta, ora, ecco a voi, la senta, ora, ecco a voi, la senta, e allora, ecco a voi, la senta, ora, ecco a voi, la senta, ora, ecco a voi, la senta, e allora, ecco a voi, la senta, ora, ecco a voi, la senta, ora, ecco a voi, la senta, Ma, 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 ma per serate proposte chiamatela al numero 4 ma io te ne ne ho andato a vedere in città